Un italiano su due non si fida delle associazioni non profit e sceglie di non donare. Per questo oggi serve una garanzia. Da più di dieci anni l'Istituto Italiano della Donazione garantisce attraverso i suoi controlli l'uso corretto dei fondi raccolti. Un'associazione che aderisce all'Istituto Italiano della Donazione è sicura e affidabile. Scegli di donare e a chi su iodonosicuro.it Istituto Italiano della Donazione. Dona senza sorprese. Bentrovati, io sono Ornella Ponzoni ed è un piacere essere qui oggi con voi insieme alla mia collega Cinzia Di Stasio per parlarvi dell'Istituto Italiano della Donazione, un'associazione che da oltre 15 anni si occupa di dono e donazione in tutta Italia. Per farlo abbiamo ideato uno strumento, un database chiamato Io Dono Sicuro che è al servizio del cittadino che vuole donare con fiducia a un'associazione. Cinzia, che cos'è Io Dono Sicuro? Grazie Ornella. Abbiamo visto un contributo che spiega la nostra attività. Aggiungerei che Io Dono Sicuro è uno strumento, uno strumento molto concreto che i cittadini hanno a disposizione quando vogliono scegliere a chi rivolgere la propria generosità. Quindi quando chiunque di noi è indeciso sull'organizzazione da sostenere può andare su iodonosicuro.it e trovare delle organizzazioni verificate. Cosa vuol dire verificate? Come istituto ci poniamo proprio l'obiettivo di controllare tutti gli elementi più importanti di un'organizzazione soprattutto per quanto riguarda la gestione economica. Quindi come le organizzazioni raccolgono i soldi, le donazioni e quindi le risorse, come le organizzano all'interno della propria organizzazione e come chiaramente le destinano. Per fare questo andiamo anche a vedere degli indici di controllo. Quindi l'indice della spesa, della missione, quanto va il progetto, quanto va la struttura. Tutte queste informazioni sono raccolte in delle schede, una scheda per ogni organizzazione che il cittadino può visionare e confrontare tra un'organizzazione e l'altra. Questo permette sicuramente una donazione più consapevole, una scelta più ragionata che dovrebbe aiutare il donatore a sentirsi più rassicurato e garantito nel momento in cui fa una donazione a un'organizzazione non profit. Chiaramente nel nostro database ci sono organizzazioni che raccolgono fondi ma offrono anche delle occasioni di volontariato. Quindi anche un donatore che vuole offrire il proprio tempo e non soltanto delle donazioni economiche può avere a disposizione uno strumento per la scelta. Organizzazioni anche che possono dare dei servizi di assistenza ai cittadini anche in questo caso sono ben distinte le diverse attività che le organizzazioni mettono in campo. Quindi invitiamo tutti i donatori privati cittadini a visionare il nostro sito iodonosicuro.it per fare appunto una scelta consapevole e ragionata. Ornella, vuoi parlare del nostro progetto che accompagna anche la nostra attività di verifica il giorno del dono che dal 2015 ha dato appunto origine a una nuova attività culturale? Grazie, grazie Cinzia. Sì, noi siamo partiti nel 2015 grazie a una legge dello Stato che è stata approvata che sancisce che ogni anno il 4 ottobre è il giorno del dono un giorno dedicato al dono in tutte le sue forme. La data stabilita è appunto il 4 ottobre ma noi lavoriamo tutto l'anno per questa giornata che diciamo è la giornata principe ma all'interno della quale e nei giorni precedenti e successivi ci sono eventi, manifestazioni e quant'altro. L'invito che vi facciamo è di andare nelle vostre scuole insieme ai vostri bambini, insieme ai vostri figli, invitare i presidi, i professori ad aderire al giorno del dono perché l'invito è rivolto principalmente alle scuole ma anche ai comuni, anche all'associazione non profit e anche alle imprese che credono nella responsabilità sociale di impresa. L'appuntamento per tutti è su www.giorno del dono.org www.giorno del dono.org